Musica Abbiamo praticamente inventato un talent di quartiere Quarto Cagnino, Quinto Romano, San Siro, Baggio, Fino Giambellino Cercavamo sostanzialmente di tutto Da ballerini, cantanti, smanettoni, cuochi, musicisti Queste persone una volta selezionate sono state messe in delle squadre Si sono inventati dei progetti Non solo il pubblico voterà ma voterà anche la giuria Ogni settimana abbiamo avuto un giorno intero in full immersion in questo ufficio Dove la giuria, gli esperti hanno lavorato con ciascuna squadra Entriamo proprio nel merito dei singoli progetti Megafonina è una supereroina fittizia Il suo nego strumento è la voce amplificata da un megafono Perché è questo che fa Megafonina? Amplifica la voce delle persone comuni Possiamo intendere Megafonina come una piattaforma di comunicazione Su cui coinvolgono le risorse e i problemi di un quartiere Vi abbiamo chiesto che sapore ha un'emozione La felicità, mi sa che ha male di brutto Sì, sicuramente La faccia della felicità Fanno anche crema, anche gusto mango, così La giuratteria non avrà il classico gusto Tornucino, nocciola, cioccolato, panna, fior di latte e quant'altro Ma avrà dei nomi che ricordano le emozioni Se l'Alitalia avesse il gusto relax Per dire, uno è a posto Cucci è un mood che vogliamo diffondere Che si interroga e sveglia dei fenomeni di panico collettivo Cucci ignora il panico Il nome Cucci derivato dal quartiere Sarebbe Cucci, quarto cammino E attraverso la diffusione di video, musica, scritte Vuole dare voce a diversi punti di vista Che si interrogano sul fatto che il panico collettivo È uno strumento di controllo collettivo Cominciamo da Megafonina, in alto con le mani Votazione per Cucci I vincitori del Fucking Good Talent 2015 Megafonina e Cucci, venite qua Ci vediamo il prossimo anno per la seconda edizione del Fucking Good Talent Miss Fucking Baci, 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 bravi Bravi, bravi, ciao, 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 ciao Siete bravissimi, siete super indissimi Grazie, 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 grazie Grazie, grazie, grazie